buongiorno saluti bentrovati oggi domenica 2 aprile 2023 domenica delle palme si apre la stagione croceristica con l'arrivo alle nostre spalle la vedete a zamarapussit la prima nave oggi è qui e domani è ad amalfi crocine ad amalfi domani quindi apre la stagione croceristica anche sulla costa amalpitana a zamarapussit 22 anni fa è stata varata dai chantier della trantique in francia ha un carico massimo di 700 passeggeri e due sono i comandanti che si alternano negli ultimi 4 5 anni carl smith e toledo un altro comandante di questa compagnia che girano su questa nave chi è a zamara a zamare una compagnia di navigazione che è un brand un branch della royal caribbean con il movimento del top in questi due anni di sosta c'è stato uno scambio una rimessa di naviga questa adesso si chiama zamarapussit ma precedentemente era adone era la r8 di caribbean insomma ci fa molto piacere vedere in questa estate alta aprile ma la rivedremo ancora è perché quasi settimanalmente questo brand è stato scelto per frequentare porti come grotone come porto empedocle per raggiungere agrigento capitale della cultura europea nel prossimo 2025 piccoli porti come otranto quindi spazierà e si muove la rivedremo qui il 17 nel frattempo si alterneranno altre navi è tutto dalla piazzetta della marinella buon inizio stagione croceristica 2023